Il turismo delle radici non è solo un volano di promozione di un'attività diciamo turistico, commerciale, economica, secondo me ha un valore etico e morale ben più alto, ovvero è l'ultimo estremo tentativo per salvare un paese, un paese intendo i singoli minuscoli paesi perché noi sappiamo che lo spopolamento non è solo la malattia, lo spopolamento porta alla morte dei piccoli paesi e se noi guardiamo la mappa geografica in Italia ma soprattutto anche in altri grandi paesi europei, la Svizzera, la Francia, la Spagna, i paesi possono morire, i paesi si possono cancellare.